agenziale cirque per vendere o acquistare la tua casa agenziale cirque professionisti al tuo servizio benvenuti al meteo si rinforza l'alta pressione e dunque il tempo migliora ulteriormente sul nostro territorio in questa domenica 13 dicembre nel dettaglio sul veneto la giornata di santa lucia sarà contrassegnata dal bel tempo il cielo sarà sereno al massimo poco nuvoloso solo con locali foschie o nebbie al mattino sulle zone di pianura e nei fondovalle ma saranno in rapido dissolvimento non sono attese piogge particolarmente degne di nota temperature minime in calo comprese tra meno 1 e 2 gradi valori massimi invece in lieve aumento tra gli 8 e gli 11 gradi ci spostiamo ora sul friuli venezia giulia anche qui giornata in prevalenza soleggiata cielo poco nuvoloso salvo la presenza di locali addensamenti al mattino ma saranno del tutto innocui temperature minime fino a 6 gradi massime sui 10 12 gradi uno sguardo infine alla situazione del trentino alto adige anche qui tempo stabile ampio soleggiamento vedete su tutti i settori qualche nebbia nelle ore più fredde temperature minime di qualche grado sotto lo zero massime sui 6 7 gradi all'incirca dal meteo per ora è tutto vi auguro un buon proseguimento in compagnia di antena 3 agenziale circ per vendere o acquistare la tua casa agenziale circ professionisti al tuo servizio grazie a tutti